Un cordiale benvenuti a una nuova puntata di Talk Sicilia, il programma di approfondimento di Blog Sicilia, una musica che viene da lontano per regalare emozioni, suggestioni e tanto divertimento, Palermo a passo di swing, Core Start Show arriva al Cuba Fest, un programma di concerti live e sessioni di ballo swing, proprio come all'epoca delle sale da ballo degli anni 30 e 40, al Cuba Fest si terrà dall'1 al 3 settembre al Castello della Cuba di Palermo, ne parliamo con Carlo Gutera, musicista e presidente dell'Associazione sulle Orme di Django e con Bernardo Tortorici, presidente dell'Associazione Amici dei Musei Siciliani. Benvenuti! Buongiorno a tutti! Dunque, tre giorni di concerti, balli ed eventi per una festa della musica, ma non solo frutto della collaborazione tra due importanti realtà attive in ambito culturale. Butera, come nasce al Cuba Fest e cosa sarà? Beh, al Cuba Fest nasce sicuramente dall'incontro con un'amicizia con Bernardo. Cosa sarà? Saranno tre giorni sicuramente di divertimento, questo è garantito, con musica dal vivo, con la nostra resident band formata da me, Mattia Franchina, Gabriele Lomonte, non dico gli strumenti, ma per velocizzare, insomma. Poi ci saranno altri musicisti, Dino Triassi, e poi all'interno della manifestazione ci saranno dei corsi di ballo, così che i partecipanti potranno anche, non solo ascoltare il concerto, ma ballarlo, nel senso prenderne parte attiva, quindi più o meno ho questo. Tortorici, un altro grande evento nell'ambito di Restart, festival di ultima generazione che sta rendendo magiche le notti di Palermo e che proseguirà sino al 10 settembre. È anche il modello di una nuova fetta turistica e culturale? Sì, fa parte di quello che erano i nostri obiettivi, la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, sia da un punto di vista come un prodotto turistico da offrire ai turisti nelle sere d'estate e quindi dare la possibilità con più frescura rispetto al calore delle nostre state palermitani, sia riempire questi luoghi di eventi speciali o eventi particolari che servono ai palermitani, alle famiglie, abbiamo visto molte famiglie partecipare a questi eventi, che servono a ripercorrere luoghi probabilmente già conosciuti, ma da un altro punto di vista, raccontando delle storie, ascoltando della musica, teatralizzando e quant'altro è possibile, perché questo luogo possa essere rivitalizzato e rigenerato con un'altra forma di narrazione. Torniamo dal Cuba Fest, Butera, quale sarà il programma? Allora, il programma è molto semplice, è suddiviso in tre giorni e quindi la fase iniziale sarà appunto dedicata ai workshop, quindi per chi vuole approcciarsi al ballo, appunto di questo genere musicale è molto bello e divertente, quindi dalle 18 circa fino alle 20 diciamo che ci saranno dei maestri sia dalla scuola di Catania, Sicily Swing, che della scuola anche palermitana, Swing Age. I maestri saranno Enzo Mercury e Deborah Gallarate, quindi sono delle rispettive due scuole. Dopodiché si inizierà con il concerto, ma chiaramente speriamo che comunque chi ha preso parte ai workshop possa comunque integrarsi con noi, nel senso che ci aspettiamo una partecipazione del pubblico che partecipa ai workshop e quindi con il ballo. Quindi poi ci saranno gli ospiti, gli ospiti saranno delle guest, la prima sera sarà dedicato appunto al jazz europeo, che è quello comunque del jazz manouche, quindi ci sarà ospite, Raresh Molaresco è un violista che vive a Parigi, un nome già diciamo un'eccellenza europea, la seconda sera ci sarà invece un'eccellenza siciliana una bravissima voce, bellissima voce di Roberta Sava, mentre la terza sera un altro bravissimo musicista e cantante è Tony Piscopo, sempre da Palermo. E insomma poi vi invito comunque a seguire i vari canali www.restartpalermo.it per appunto conoscere il programma più dettagliato e basta. Palermo dunque riparte dai suoi tesori più autentici, dalla cultura e dalla bellezza, la formula di Restart, il festival che è giunto alla terza edizione, si è rivelato un successo, tortorisci tantissimi visitatori come appena detto lei, palermitani e turisti, ma qual è il segreto di questo successo? Il segreto probabilmente sta nel fatto di essere un prodotto nuovo, probabilmente siamo l'unica città in Italia che ha un'offerta di questo genere, nel senso che mentre si vedono tutti i luoghi, i singoli monumenti che si aprono la sera, avere una rete di monumenti, avere una città aperta la sera è una cosa abbastanza unica. Devo dire che trovo nei feedback dei turisti sorpresa nel trovarsi aperti oratori, chiese, musei a orari pensabili. E questo è certamente un valore aggiunto. L'altro valore aggiunto è quello che riusciamo a proporre all'interno di questi monumenti. Abbiamo detto concerti, abbiamo detto teatralizzazioni, abbiamo detto letture, abbiamo detto incontri. tanti avvenimenti che hanno lo scopo di portare la gente in quel luogo sotto un altro punto di vista. Perché abbiamo voluto organizzare un festival di musica alla Cuba? In realtà questa è una novità per noi, non siamo organizzatori di festival musicali. Ma l'idea di poter portare lo swing alla Cuba ci è venuto chiacchierando insieme, trovandoci insieme una serata. E io probabilmente lo riassumerei per tre semplici motivi. Il primo, intanto dobbiamo fare capire a una generazione di palermitani che la Cuba non è quella di Villa Sperlinga. Partiamo da questo. Parliamo della Cuba del castello arabo normanno in corso con la Tafini. La seconda è che la Cuba è inserita nell'itinerario storico-artistico di Restart con le aperture serali. Però è un po' fuori mano, un po' fuori dai percorsi turistici, quindi è un po' difficile da arrivarci. Quindi nonostante il fascino dell'apertura serale, il fascino di vederla illuminata in maniera straordinaria, in realtà non sono tantissimi i visitatori che si avventurano percorso Galata Fimi, tra l'altro al buio, per poter arrivare alla Cuba e poterla visitare. Quindi avevamo necessità di portare gente in questo luogo straordinario per farlo conoscere. Il terzo motivo è perché la Cuba è stata il sollazzo. È stato il sollazzo degli emiri, è stato il sollazzo dei re normanni, per cui gli stiamo ridando il carattere del sollazzo, cioè un posto di gioia, di divertimento e di cose che possono fare stare in serenità ed allegria la gente che viene a vivere quel luogo. Butera vuole aggiungere qualcosa circa gli obiettivi della manifestazione? L'obiettivo è, come dice Bernardo, riuscire a comunicare, a portare sempre bellezza a quello che noi ci proponiamo anche come artisti, musicisti. Quello che faccio io, anche da anni ormai con la mia associazione, in giro per la Sicilia, organizzando diversi festival, tra cui ricordo anche il raduno Manuscia a Petralia Sottana. Quindi cosa aggiungere di più? Nulla. La nostra mission è comunque sostanzialmente cercare di creare un ambiente che sia bello e dare e offrire delle emozioni a chiunque partecipi, insomma. In realtà si uniscono due bellezze, la bellezza della musica con la bellezza del monumento. Ah, sì, sicuramente. Quindi il senso è un po' quello, di coniugare bellezze per avere una cosa unica. Certo, capisco. Una domanda un po' generale che rivolgo ad entrambi. Qual è, secondo voi, lo stato di salute della cultura in questo particolare momento storico, in Italia e soprattutto in Sicilia? Chi risponde? Chi vuole? Io sarò breve. Inizia tu breve e io pauserò un po'. Beh, allora, secondo me, per quello che io parlo, chiaramente, per quello che mi riguarda, diciamo, dal punto di vista artistico e soprattutto musicale, siamo veramente totalmente fuori da ciò che può essere paragonato a quello che comunque viene vissuto in Europa. Sicuramente il mio modello è quello francese, dove comunque gli artisti sono intermittenti dello spettacolo, percepiscono, chiaramente, una pensione integrativa con, diciamo, dei contributi che sono molto limitati. Non è paragonabile a quello che, per esempio, succede qua in Italia. Ma, per essere brevi, insomma, non siamo tutelati. L'abbiamo visto anche durante la pandemia come, comunque, scusate, faccio magari un po' di politica, però non mi sono sentito assolutamente tutelato da questo punto di vista. E quindi, poi, da un punto di vista culturale, chiaramente, c'è anche una mancanza di… L'artista, se non sta bene, non può offrire, diciamo, il meglio di sé, meraviglia, ciò che per anni ha studiato. E quindi credo che si dovrebbero rivedere un po' di cose. Mi fermo qui perché, altrimenti, dico la parentesi, è troppo lunga. Troppo lunga, troppo in… Tortorici. Beh, dal punto di vista del patrimonio culturale e della sua valorizzazione, credo che la Sicilia abbia fatto degli enormi passi avanti nel corso di questi anni. Si sono moltiplicati i festival, si sono moltiplicate le aperture, si sono moltiplicate le offerte culturali. Insomma, da questo punto di vista, io credo che ci sia ancora un po' di lavoro da fare, però abbiamo raggiunto un livello che, direi, ha una valenza nazionale, e almeno nazionale, e certamente quasi internazionale. Quello che non cammina parallelo rispetto a questo percorso di valorizzazione è quello dei servizi. Cioè i servizi non sono all'altezza di questa offerta. È una Sicilia che soffre per i trasporti, soffre per le strade, soffre per l'immondizia, soffre per qualunque cosa che è comunque corollaria un'offerta culturale. Perché quando io devo aprire Palazzo Abatelli, se ho la via Loro Buia, è un problema. Se devo aprire Palazzo Mirte, c'ho il costonetto dell'immondizia strapieno all'ingresso, è un problema. Non è bello, cioè cerchiamo di fare vedere il bello e nello stesso tempo accanto c'è un brutto che prova a prevaricare su questo bello. Ci vuole uno sforzo, cioè Restart nasce dalla collaborazione delle istituzioni culturali tutte, Regione Comune, Curia, Fondazioni, Teatro Massimo, Fondazione Sicilia e tutti insieme, devo dire, con grande sacrificio offriamo questo prodotto. Ma accanto a questo sforzo ci deve essere lo sforzo anche di altri assessorati e di altre strutture che si possono occupare di quello che sta intorno a un bene culturale perché altrimenti la nostra offerta rischia di ritorcersi come un boomerang. Quindi la cultura ha bene da tutelare. Cosa vorreste rispondere a chi osserva che fare cultura in Sicilia è difficile o comunque assai complicato? Ma io non credo che sia difficile o complicato. Io credo che bisogna sbracciarsi, bisogna lavorare, bisogna seminare. Certo, se ci dobbiamo comunque sempre aspettare il finanziamento regionale perché è l'unica maniera per fare cultura, allora nessuno farà mai niente. o comunque saresti costretto a fare lunghe attese dietro le porte degli assessori. Ma, scusami, ti interrompo, però questo è perché la macchina burocratica è sempre complicata in Italia. Secondo me fuori, all'estero, molto più easy. Dovendoci rapportare su quella che è la nostra realtà, secondo me facciamo prima, a farci vedere da soli, spesso, con l'aiuto delle istituzioni perché comunque è un aiuto fondamentale. Però senza dover per forza piangersi addosso, dover per forza aspettare o perché se no mi scelgono io non riesco allora a fare nulla. In realtà questo festival ce lo siamo inventati, sostenuti e prodotti da solo, stiamo rischiando, ci stiamo provando. Speriamo che la gente ci premi, premi l'idea, premi questa musica e noi sfidiamo. Peccato, chi non viene non sa cosa si perde. Sicuramente si perde il divertimento e si perde un luogo meraviglioso. Lo sappiamo bene. E allora Tortorici, quali sono gli altri eventi di Restart, i prossimi appuntamenti da non perdere? Beh, ormai ci avviamo verso la conclusione, Restart finirà il 10 settembre, eppure in questa ultima fase abbiamo iniziato nuove programmazioni, come per esempio la lettura dei trionfi di Petrarca sotto il trionfo della morte a Palazzo Abbatellis, che sembra di per sé una cosa complessa e difficile, ma interpretati da Beatrice Morroi, che ne fa un po' la regia, e letti da Stefania Blandeburgo, che legge questo italiano antico in maniera particolarmente ricercata, particolarmente studiata, in una vocalità particolarmente affascinante, accompagnati dalla musica di Silvio Natoli. Io devo dire che nella prima dei tre momenti che saranno dedicati ai trionfi di Petrarca è stato un successo avere 40 persone, nelle serate anche calde d'estate, senza sentire volare una mosca per ascoltare i trionfi di Petrarca, è stato un piccolo successo della manifestazione. Ma poi abbiamo gli incontri alle terrazze Abbatellis, alla terrazza Abbatellis, che hanno già visto Marco Betta e Luca Guadagnino parlare sul tema dell'arte incompiuta, cioè i grandi capolavori che non hanno visto termine per i più svariati motivi, e che vedranno il giorno 3, il giorno 2, Beatrice Borroi parlare di Calvino, e il giorno 9, Iano Monaco parlare delle grandi incompiute architettoniche. Poi abbiamo un tempo supplementare di Gaetano Basile, il cui successo è comunque sempre estremamente popolare, di grande riscontro, quindi abbiamo voluto fare una puntata in più, e lui il 2 settembre all'archivio comunale parlerà, essendo nelle vicinanze della ricorrenza, parlerà di Santa Rosalia alla sua maniera, e di storie su Santa Rosalia ne ha di incredibili. Giorno 1 iniziamo a, oltre al festival dove aspettiamo tutti, giorno 1 aspettiamo all'oratorio di Santa Cita, gli appassionati di Giacomo Serpotta, perché faremo un videomapping sulla battaglia di Lepanto, realizzata da Serpotta nella controfacciata dell'oratorio, realizzato da Dario Denso Andriolo, e con le musiche di Gianni Jebbi appositamente create per questo videomapping. Il videomapping della battaglia di Lepanto è in realtà un videomapping molto emozionale, a parte la bellezza dell'opera di Serpotta, il tema è la guerra e ci sono alcuni riferimenti anche alla guerra in Ucraina, alla stupidità della guerra in generale, e quindi è uno spettacolo straordinario in cui aspettiamo le persone. E poi ci sono delle chicche, la stanza dello Scirocco a Villa Naselli, ultima possibilità, 2 settembre, le stanze private di Palazzo Butera, anche qui un grande successo, il 3 settembre, ultima possibilità, il Museo della Specola, che è questo posto straordinario a Palazzo Reale, che pochi conoscono e il cui accesso è particolarmente complesso, che abbiamo il 9 settembre, il Museo delle Stanze Algenio, che è questa collezione di ceramica, che ogni venerdì fino al 10 settembre, quindi fino al 9 settembre, sarà aperto, e poi Casa Florio e Villa Aliata di Pietro da Tagliata, che è la scoperta di questa edizione, la villa del Principe Mago, a cui ci è stata data la possibilità di poterla fare visitare a cantire aperto, ed è una scoperta per tutti, per i palermitani, per i turisti, e per tutti quelli che sono appassionati alle storie, anche dell'occultismo. Quindi tanti luoghi da scoprire, una Palermo inedita. In conclusione, come partecipare ad Alcuba Fest? Butera, vuole dirlo lei? Sì, molto semplice. Avete diverse possibilità, quindi potete collegarvi al sito web www.restartpalermo.it, cercare, penso in fine pagina esattamente, le proposte dei vari eventi. Quindi, considerando che ci sono diverse opzioni, cioè potete sia entrare al singolo concerto, o provare una giornata di workshop, o comprare direttamente, quindi acquistare direttamente il pacchetto completo, che comprende sia concerti, workshop, insomma è questo. Quindi www.restartpalermo.it, oppure potete collegarvi alla pagina dell'evento, su Facebook, quindi cercare sempre Alcuba Fest, all'interno sia del sito web, che anche delle pagine Facebook, e da lì comunque ci saranno anche i link, che poi vi porteranno direttamente nelle pagine. Molto semplice. Benissimo. Porto Ricci, vuole aggiungere qualcosa? Un invito all'azione per il pubblico di Restart, per gli ultimi appuntamenti? Per gli ultimi appuntamenti, oltre a quello che ho descritto, in realtà invito tutti a voler andare anche a ritrovare, per esempio, l'annunziata di Antonello da Messina, o andare a ritrovare gli oratori, l'oratorio di San Lorenzo, con la sua riproduzione del Caravaggio, e con l'opera di Emilio Isgro, che ha fatto la sua natività, ispirata a quella di Caravaggio, piuttosto che Palazzo Branciforte, piuttosto che San Giovanni degli Eremiti, che è un luogo di sera straordinario, quel chiostro illuminato è di un fascino, oppure arrampicarsi sul campanile di San Giuseppe Caffasso. Sono tante le possibilità per poter passeggiare, poter godere la bellezza in queste ultime sere d'estate. Bene, siamo arrivati a conclusione di questa puntata, ringrazio Carlo Butera e Bernardo Tortorici per questa bella e importante iniziativa, e per essere stati con noi. Ringrazio anche il pubblico che ci ha seguito, appuntamento al prossimo approfondimento di Talk Sicilia. A presto! Grazie a tutti!